Da cui è scaturito questo provvedimento che poi i colleghi di Bari gli hanno notificato e quindi sta lì a Bari in attesa. Ora, nei prossimi giorni faremo esaminare anche la pistola dal nostro RIS per vedere ulteriori riscontri, ma da quello che è emesso finora non ci sono dubbi, anche perché abbiamo ritrovato in Bari anche gli indumenti che lui indossava la mattina quando si sono incontrati, perché è sempre appunto che sia appunto l'abbia aspettato lì davanti casa, da dove è nato un livello e quindi come è stato sottolineato, che poi purtroppo ha avuto questo epilogo increscioso. Se ci sono domande...